Ciao amici, stiamo andando a fare colazione dal barista di TikTok. Anche oggi a Roma e stiamo andando da Tony Berry a fare colazione, Sofia andiamo a conoscerla. E lui? Ciao Tony! Che onore dal vivo serviti dal barista di TikTok, cioè guardate raga. Guarda, questo è la chiamata, la chiamata normale, normalissimo. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa invece sul cappuccino. Ecco a te, vai. Sei troppo bravo, mamma. Hai visto Sofì, sei contenta? Stipendo! Hai visto? Sono qui con Sofì e Papi, con un super cappuccino e come si dice sempre dal barista di TikTok. Grazie! Grazie! Grazie!